ciao a tutti il popolo del tubo faccio questo veloce video per tutti quelli che mi hanno fatto le domande nei giorni scorsi sugli alberi visto che questa è stata la settimana del nuovissimo dlc platinum espression che ci porta tanti tanti alberi nuovi che ci porta un nuovo modo di vivere la silvicoltura tantissimi si sono fatti le domande ma quali alberi pianto ma per far quell'albero che cosa mi serve cosa lo taglio come capisco come tagliare non tagliare un albero quanto ci mette a crescere un determinato albero ecco e qui la giants ci viene incontro nella sua academy poi vi lascio ovviamente il link di questa pagina in descrizione anzi vi lascio proprio il link dell'academy in descrizione con i vari paragrafi oggi quindi andiamo a parlare dei vari tipi di albero che ci sono nel gioco con l'espansione ovviamente questo vlog è dedicato a tutti quelli che hanno l'espansione platinum praticamente questo gioco ci mette due tipi di albero l'albero da conifera e l'albero deciduo credo che si dica deciduo in italiano c'è scritto deciduos 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 comunque credo che in italiano siano alberi decidui praticamente gli alberi da conifera qua la giants ci dice si adattano di più alla produzione perché hanno diciamo un corpo molto già già di suo con pochissimi rami ok e poi ce l'hanno molto regolare molto preciso quindi si adatta bene al taglio diciamo meccanizzato no al taglio dei processori forestali gli alberi quindi della conifera sono come vedete spruce pine storm pine cipres insomma sono questi qua questi qua che vedete sopra mentre quelli decidui sono quelli irregolari irregolari tutti storti grossi anche a livello di diametro che magari non si adattano bene al taglio con i processori forestali ma vengono meglio con la motosega e loro ci dicono che per fare cippato è meglio quelli decidui per fare produzioni sono meglio le conifere quelli da conifera e qui ci fanno vedere ogni tipo di albero se è un albero conifera o un albero deciduo abete rosso conifera pino conifera pino cembro conifera cipresso conifera betulla e deciduo quercia e salice d'acero corniolo shagberg e olma americano e lanuginoso insomma tutta sta roba qua sono decidui vedete c'è scritto qua poi nella modalità costruzione ci sono anche alberi per decorare dal momento che sono usati per scopi decorativi l'ignoriamo per la silvicoltura vedete proprio sì esatto sono gli alberi quelli che mettete dalla modalità costruzione quelli sono decorativi adesso non ci interessano e li lasciamo perdere ma rispondendo alla domanda quanto ci mettono a crescere la giant ci ha dato proprio questo fantastico questo fatto questa fantastica immagine insomma questo riassunto questo quadro della situazione loro dicono naturalmente ci sono differenze tra le specie arboree dovresti tenere a mente queste differenze in quanto riguardano la stagione in cui crescono il modo di raccogliere il legname la possibilità di lavorarlo e di riceverne il rendimento e andiamo un po ad allargare l'immagine come vedete ogni tipo di albero c'ha la sua crescita vedete 24 mesi 24 8 mesi 16 mesi 4.8 mesi quindi sotto i miei video ho letto le domande quanto ci mettono gli alberi a cresce e ho letto gente che rispondeva due anni di gioco così a caso no dipende dall'albero dipende dall'albero alcuni due anni di gioco alcuni 4 5 mesi alcuni 8 mesi alcuni 16 mesi alcune 9 mesi alcune addirittura due mesi quindi ragazzi andatevi a leggere questa tabellina che è molto importante poi qua ci dicono se la specie dell'albero in questione va tagliata con il processore forestale o con la motosega vedete wood harvest o shines of shines of è la motosega e ci dicono se è più adatto alle produzioni o al cippato perciò ragazzi con questa lavagnetta qua questa vignettina qua noi abbiamo tutte le risposte alle nostre domande ricordatevi che come ci dice la giants lo spessore e la lunghezza del tronco e la quantità di rami dipendono dal tipo di albero ciò ha un'influenza diretta sul valore di vendita e sul tipo di lavorazione possibili gli alberi con molti rami ottengono meno soldi ragazzi a meno che tu non tagli i rami puoi usare i rami per produrre i trucioli di legno se vuoi quindi mi raccomando cercate di pulirli il più possibile prima di venderli la regola generale è che più è lungo e più spesso il tronco maggiore è la resa perciò tagliateli sempre al massimo 12 metri possibilmente oppure di più e mi raccomando alberi belli spessi più è spesso il tronco e più ve lo pagano ecco perché le conifere come il pino con i loro piccoli rami e i tronchi lunghi e dritti vengono utilizzate principalmente per la produzione di legname gli alberi decidui sono più storti e hanno molti rami spessi quindi sono più adatti alla produzione di cippato come ad esempio la quercia ha un tronco grosso ma non particolarmente dritto inoltre i rami sono molto grandi quindi riassumiamo come un mantra unifere per la produzione di legname latifoglie per la produzione di cippato chiaro ragazzi fatemi sapere se questo tipo di video vi piace se questo video in particolare vi è stato utile se avete domande su altre cose che riguardano farming scrivetele qua sotto che io ne farò altri di video illustrativi così ringrazio gli amici abbonati anima video e cuore del canale che ho sentito al canale di sostanza andare avanti lasciare di fare tutto quello insomma che io faccio grazie amici abbonati mi staccate la lingua ricordatevi di lasciare un mi piacetto l'avete lasciato il mi piacetto è importante il mi piacetto condividete il video raga per aiutare il canale il modo migliore per aiutare il canale gratuitamente è proprio quello di condividere il video e noi ci vediamo alla prossima insomma ciao amici ciao ciao ciao